buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di succede in cittadella la rubrica nella quale vi facciamo venire voglia di venire in cittadella a seguire le le attività oggi è con noi natalie grange per parlare del laboratorio di avvicinamento alla professione giornalistica che inizierà tra pochissimo buongiorno natalie buongiorno a tutti allora prima di iniziare con le domande mi piacerebbe raccontare come nasce l'idea di questo laboratorio questo laboratorio nasce perché qualche mese fa in pieno lockdown ci ritroviamo a dover riprogrammare l'attività di cittadella e chiediamo quindi ai alle persone che frequentano la cittadella quali sono le loro necessità nell'ambito dell'orientamento e della formazione è un'esigenza che nasce in maniera molto forte e che viene che emerge in maniera molto forte quella di di saper riconoscere le fake news eravamo in piena pandemia in pieno lockdown quindi in quel momento i ragazzi ci dissero di avere un forte bisogno di capire di quali fonti potevano potevano fidarsi e da questo spunto da questa suggestione è nata l'idea di questo laboratorio che abbiamo pensato perché quello del giornalista è una professione che è ancora molto affascinante per i giovani secondo te per quale motivo natali ma il giornalista di fatto spesso viene definito un po il testimone del presente no differenza diciamo degli storici che sono cosiddetti testimoni del passato e il fatto effettivamente di avere come obiettivo diciamo del proprio lavoro e anche come opportunità nella propria professione di essere a stretto contatto con ciò che sta veramente succedendo ai livelli più diversi io immagino le piccole comunità come la nostra cioè raccontare l'alluvione del 2000 piuttosto che le elezioni piuttosto che ciò che accade è diciamo un porta ad un'attenzione perché si sente in qualche modo di tanto avere una grandissima responsabilità nei confronti di chi ci legge ma comunque di essere effettivamente protagonisti della realtà perché accade qualcosa noi lo dobbiamo guardare con i nostri occhi e con la nostra professionalità raccontarlo e raccontarlo in un modo che venga compreso capito e poi dello stile editoriale di ogni testata diciamo fatto proprio dei lettori no quindi attraverso il lavoro del giornalista si creano le opinioni attraverso il lavoro dell'informazione si può in qualche modo incidere su una comunità che può essere più o meno informata di ciò che sta accadendo quindi il fascino io credo che venga un po anche dal retaggio dell'idea del grande reporter di guerra che va sul sul posto a raccontare le guerre piuttosto che a narrare i grandi fatti mondiali però anche nelle nostre piccole realtà effettivamente ci sentiamo a stretto contatto con con i grandi fatti che intaccano in maniera molto importante la vita delle persone quindi genere generalmente generano entusiasmo e sostanzialmente partecipazione da parte della comunità quindi sia in qualche modo seppur dietro le quinte protagonisti di di ciò che accade a casa propria quindi il fascino io credo che sia dovuto quello sì e proprio perché è un lavoro molto legato come tu dici al presente è un lavoro che io mi immagino continuamente in evoluzione e come è cambiato e come cambia questo mestiere ma intanto diciamo che è un mestiere che con l'avvento del web di internet dei social media ha subito degli stravolgimenti no cioè nel senso che pensate che il cronista di un tempo cioè quello che si occupava della cronaca nera faceva sostanzialmente ogni giorno più volte al giorno le telefonate in tutti i contesti dall'ospedale in questura piuttosto che ai vigili del fuoco alla protezione civile per sapere cosa stava succedendo no oppure andava in giro a vedere a raccogliere le notizie e a cercare di capire cosa stava cosa stava succedendo adesso di fatto c'è un immediatezza dell'informazione che può essere un pro incontro non sto dicendo che sia necessariamente positiva che porta intanto le redazioni e questo male ad essere molto più chiuse nel muro nelle mura della redazione no si esce meno si va meno a cercare la notizia si fa un tipo di lavoro quasi più standard più da ufficio no a parte poi nei grandi eventi nei grandi fatti ci siamo un po impigriti diciamo come come tipologia si cercano anche le notizie in luoghi che sono virtuali no per cui anche i social media anche il web eccetera diventano fonti no poi non sono fonti autorevoli vanno verificate però effettivamente io faccio sempre l'esempio se nei gruppi diciamo delle comunità uno solleva un problema piuttosto che posta un'immagine di qualcosa che sta accadendo tutti noi direttiamo le antenne e partiamo alla ricerca diciamo e all'approfondimento di questa notizia quindi è cambiato ed è ancora profondamente in cambiamento io direi anche per certi aspetti un po in crisi no perché chiunque in questo momento con pochissimo investimento mette su blog piuttosto che una sito internet e veramente senza rispondere a quelli che sono poi diretti e doveri del giornalista informa o in qualche modo si si accredita per informare la comunità su ciò che sta avvenendo e questo ha dei risvolti anche problematici insomma no nel senso che io sono io sono dell'idea perché io sono una giornalista che lavora ed è nata se c'è nativa digitale no quindi ho sempre praticamente tolto proprio i primi passi delle collaborazioni come tutti quelli che hanno più o meno iniziato alla mità fatti per i settimanali le realtà cartacee che c'erano allora negli anni 90 in valle d'aosta poi ho fondato questo questo giornale che si stasera e quindi sono una giornalista diciamo cosiddetta nativa digitale e noi abbiamo un po la presunzione come come giornale che sul web che ha innovato anche tantissimo il linguaggio no perché immaginate che un giornalista adesso esce con la macchina fotografica esce con la videocamera esce monta monta i video segue le notizie che scrive sui social e commenta cioè fa un lavoro che è molto più articolato del semplice lavoro di scrivere un pezzo e mandarlo alla redazione che lo impagina lo titola e lo mette a disposizione diciamo del giorno dopo diciamo della della comunità quindi sono cambiati tempi sono cambiati linguaggi sono cambiati modi sono è cambiato probabilmente anche la percezione che noi stessi abbiamo della responsabilità che esercitiamo io come dicevo prima sono dell'idea che comunque il web debba debba essere uno spazio che fa giornalismo di qualità indipendentemente dai tempi indipendentemente dai modi cosa vuol dire che vuol dire adeguare il giornalismo e innovarlo alle forme che vengono richieste in questo momento dalla comunità e dalla modernità diciamo dall'innovazione però mantenendo quei baluardi della professione che sono appunto la verifica delle notizie la sentire le fonti piuttosto che il raccontare effettivamente i fatti come sono l'attenzione al lettore la responsabilità grossa nei confronti dei lettori che anche il web debba debba muoversi in questa in questa forma è chiaro che è più complesso perché negli ultimi anni sono nate milioni di piccole testate che spungono un po al controllo anche ordinistico senza parlare diciamo del della parte diciamo più invece di contrattualizzazione di inquadramento della professione che non può essere una professione pagata una miseria perché un professionista pagato poco e niente è un professionista che si fa comprare e quindi da qui sorgono diversi problemi che poi affronteremo durante il corso ecco nel corso si parlerà di deontologia si parlerà di fake news come come richiesto da dalle persone che che abbiamo intervistato nel focus group che abbiamo fatto qualche mese fa e di che cos'altro si parlerà durante il laboratorio ma allora io cercherò di spiegare ai partecipanti appunto chi è la figura del giornalista cosa fa quali sono i suoi diritti quali sono i suoi doveri perché è importante che inquadriamo diciamo la professione nel modo secondo me corretto un concetto che per noi è scontato che facciamo questo lavoro ma che non lo è in generale il concetto di notizia per cui per me sarà importante spiegare che cos'è una notizia perché alcune cose sul giornale non ci vanno insomma non finiscono in alcuni casi si può imputare la responsabilità al giornalista che pigro e non se la va a cercare in altri casi non non rispondono ai criteri di notiziabilità della testata o in generale di tutte le testate quindi per me è importante spiegare ecco che noi lavoriamo sul concetto di notizia di notiziabilità ovviamente faremo un affondo sulle fake news sulle fake news quindi io cercherò di insomma di far capire come si individua una fonte autorevole di notizie cioè quali sono i requisiti di base per poter dire va bene mi fido essere una fonte autorevole di notizie poi non vuol dire non sbagliare quindi non non scrivere delle cose errate però io faccio una importante distinzione tra quelle che sono le notizie impreciso dell'errate che sono frutto del lavoro del giornalista che come tutti i lavori può sbagliare e le fake news che invece nascono con l'obiettivo di diffondere diciamo delle informazioni non vere false e che comunque hanno degli obiettivi che non sono sicuramente gli obiettivi di un'informazione corretta cioè la base del giornalismo poi parleremo appunto quindi del come dicevi tu del dei must del giornalismo faremo degli accenni perché è molto complesso e lungo come tema sulla deontologia e anche sugli organismi della categoria questo per capire che comunque il giornalista è comunque una figura non è un libero professionista perché spesso è dipendente però un professionista soggetto a delle regole controllato da un ordine poi lasciamo perdere se l'ordine funziona non funziona però di fatto delle regole ci sono e il giornalista è tenuto a seguirle cercheremo anche di vedere come si scrive se qualcuno fosse siamo curioso di provare a intraprendere questa questa professione anche partendo un po dalla gavetta che noi tutti abbiamo fatto che sono le collaborazioni con i giornali no esterne a pezzo come suol dire e quindi come si scrive per il giornale cartaceo ma anche per il web perché adesso effettivamente sono richiesto un po anche capacità immediatezza velocità e linguaggi che sono tipici diciamo del del web cercheremo di capire quali sono i generi giornalistici più utilizzati l'intervista il reportage l'editoriale ed altri e poi io alla fine proporrò per chi vuole ovviamente una piccola esercitazione perché è importante provare poi a sperimentarsi sul campo quindi se l'obiettivo diciamo dell'ultima lezione sarà quella avendo degli elementi dati di scrivere un piccolo articolo che possa essere poi pubblicato su su una testata locale wow bello molto interessante e a proposito del laboratorio ci dice ancora quando inizia quanti appuntamenti allora sì volutamente è stato un laboratorio abbastanza diciamo snello quindi non è un corso lungo è troppo troppo impegnativo sono tre appuntamenti l'undici di agosto si parte poi abbiamo al 18 e al 21 l'orario è l'orario diciamo pomeridiano e per tre ore dalle 15 alle 18 e si svolge in cittadella benissimo allora io invito tutte le persone interessate a iscriversi il prima possibile qualche posto disponibile ancora c'è e a te natalia auguro buon lavoro grazie grazie mille grazie a te per essere stata con noi ciao natalie ciao